La ricerca della bellezza è in realtà la parte più bella perché il punto d'arrivo è opinabile. La scelta del punto di vista e l'illuminazione chiaramente sono la mia ricerca della bellezza. Secondo me la bellezza sta nelle piccole cose, come nella fotografia al dettaglio della luce che entra in una stanza, è lì che tutto diventa bello. Roll, azione! Ok fine! Cut!